Greta Rossetti espone la verità sui geffini, il loro disinteresse per Beatrice. Poco dopo l'uscita di Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni ha sollevato dubbi sulla celebrazione del compleanno di Massimiliano Varrese, in segno di rispetto per il funerale. Anita Olivieri e Paolo Masella, però, hanno ribadito, no, esattamente, oggi è il suo compleanno. Alla fine, non c'è stata alcuna grande festa, e alcuni concorrenti non si sono comportati bene, sembravano tutti abbattuti, in contrasto con il giorno precedente, quando c'erano canti, balli e manifestazioni d'affetto, nonostante la tragedia di Beatrice. Greta Rossetti ha notato questo clima pesante e insoddisfatto e ha chiesto alla sua coinquilina il motivo della tristezza, ma non ha ricevuto risposta Greta Rossetti espone alcuni concorrenti del grande fratello. Non ottenendo alcuna risposta dagli altri coinquilini, l'ex partner di Mirko Brunetti si è avvicinata a Fiordaliso chiedendo spiegazioni sulla situazione in casa, non capisco perché siano così abbattuti. Ho chiesto loro, ma non ho ottenuto risposta. Si riferiscono a Bea? Spero di sì, ma non capisco perché non lo hanno fatto ieri o oggi. La cantante di Don't Want Me Cala Luna ha cercato di giustificare il comportamento degli altri concorrenti, lo ha fatto in modo convincente penso che riguardi Beatrice, sì. Credo che ci voglia tempo per elaborare. Riesci a percepire il peso della situazione? Spero che non siano delusi perché non possiamo festeggiare Max. Mi sembrava che anche lui capisse. Tuttavia, Greta Rossetti non è convinta dall'improvvisa compassione e sottolinea che fino a poche ore prima tutti erano felici in casa, nonostante l'assenza di Beatrice a causa della morte del padre onestamente, no, non credo a questa giustificazione. Lasciate fare a Bea. Inoltre, se fossero stati gli stessi di ieri. Cosa farebbero? Aspetterebbero? Ecco perché non la penso così. Fiorda, anche Max è giù per quanto accaduto. Greta, non credo che fossero così ieri, sembra tutto tardivo ringrazio Greta, ammirazione.